Nove persone indagate, sette minori e due maggiorenni. Secondo gli inquirenti sarebbe stato il branco a stuprare e violentare per mesi le due cuginette di 10 e 12 anni nel Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli. Ci sono i video delle violenze commesse sui cellulari degli indagati. I telefonini sono stati sequestrati, nei filmati sono stati trovati infatti spezzoni in cui si vedono alcuni episodi di abusi sessuali descritti dalle vittime. Uno scenario agghiacciante con ripetuti stupri di gruppo. Il blitz dei carabinieri di Napoli è scattato durante la notte scorsa dei nuovi indagati, otto sono in carcere e una in comunità, a dare il via alle indagini un messaggio su Instagram al fratello di una delle due bambine di Caivano in cui un amico lo avvisava di quanto stava accadendo alla sorellina. Subito sono partite le denunce presentate dal padre di una delle piccole e dalla madre dell'altra che hanno riferito ai carabinieri delle violenze che le figlie avrebbero subito nei due mesi precedenti e del timore di una possibile diffusione di video riproducenti gli abusi. Gli indagati sono stati descritti dal GIP come privi di scrupoli, con personalità inquietanti, convinti di poter soggiogare le vittime per chissà quanto tempo ancora, con minacce, offese, bastonate e con modalità ai limiti della crudeltà. E sempre a Caivano, oggi la Polizia di Stato ha allestito il villaggio della legalità con mille studenti provenienti anche dai comuni vicini proprio per sensibilizzare i ragazzi sul tema della legalità.